Ma farà male questo 5 a 1? Ma non doveva essere perché abbiamo provato tutto, non siamo venuti qua a chiuderci e aspettare che loro fanno giocare. Abbiamo rappresentato l'Atalanta come sta facendo anche il campionato. Come ho detto all'inizio, dobbiamo uscire con le cose positive che abbiamo fatto oggi, soprattutto al primo tempo, e portare positivo avanti. Ecco il tuo calcio di rigore, l'Atalanta che passa all'Etihad Stadium. Poi magari, come ha detto anche il mister, dovevamo tenere forse un po' di più. Sì, ma c'erano giocatori di valore, loro sfruttano ogni occasione. Io sinceramente oggi potevo fare anche io qualche gol. Però niente, guardiamo avanti, impariamo le cose che abbiamo visto oggi e ci occupiamo adesso per il campionato. Grazie. 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 Grazie.